. 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 Colpi più duri, oggi vi saranno molto di aiuto, occorre tutta la vostra attenzione e ogni sforzo utile per cogliere un risultato che vi sta a cuore. Sarai un po' teso, rilassati, oggi ti sentirai energico e sentirai dentro di te una forza nuova, nuove idee geniali, vantaggi da un capricorno. Non lasciate nulla al caso e non fatevi trovare mai impreparati di fronte a tutto ciò che potrebbe accadervi in questo giorno. Fate buon viso a cattivo gioco nella prima mattinata se qualcuno tenta di infastidirvi o molestarvi. Oggi ti sentirai un po' stanco, ma non preoccuparti, recupererai le forze, cerca di essere cauto nelle tue decisioni ed evita di discutere con i colleghi. Dubbi e perplessità non vi danno pace, prendetevi una pausa e non siate affrettati nelle scelte sentimentali. . Quante delusioni ancora volete cogliere a causa del vostro carattere, rimediate presto cercando di contenerlo. . Ci sono nella vita cose che si possono e si devono cambiare, oggi Marte vi dispone a trovare ciò che potreste cambiare, nulla è eterno e immutabile e spesso un'inversione di marcia può portare a risultati positivi. . In questa giornata alcuni aspetti planetari sono positivi ed altri negativi, dovrai fare attenzione alla tua impulsività. . Lasciate il vostro portafoglio a riposo per un po' di giorni. Le vostre ambizioni sociali non sono ancora ai livelli che avreste voluto qualche mese fa, dopo tutto non potete spendere più tempo con gli amici se state spendendo tutto il vostro tempo in ufficio o a casa. . Forse avete saputo di alcuni movimenti poco oculati messi in atto dal vostro coniuge a vostra insaputta, oppure, più semplicemente vi accorgerete di aver fatto una spesa per cui non valeva la pena perdere tutti quei soldi. . Non perdete il lume della ragione se incontrerete la persona che vi piace, rischiereste delle brutte figure, che verranno ricordate per molto tempo. Attenzione ai vecchi amori e alle vecchie passioni, in quanto potrebbero non essere del tutto accantonate. Transiti odierni piuttosto armonici favoriscono l'aspetto nascostamente danistico che è pur sempre presente nel vostro segno. . Ottime prospettive nel campo delle nuove conoscenze. . Venere nel vostro segno spiana i vostri passi. Dovrete evitare eccessive discussioni con il partner. Capitolo lavoro. Evitate passi falsi se non volete litigare con il mondo intero. . Le stelle saranno decisamente migliori a febbraio per chi deve finalizzare un accordo importante a un affare. . Il capricorno da stasera avrà la luna opposta e per questo sarà meglio avere prudenza. . C'è un po' di stanchezza ma bisogna impegnarsi a non perdere la fiducia in se stessi. . Bisogna mentere un po' di attenzione nelle spese ma nonostante questo il periodo generale è di forza, basta solo avere più fiducia nelle proprie capacità. . Oggi servirà la massima cautela nel corso della giornata, infatti, è probabile che salti fuori un ex coniuge determinato a farsi le sue ragioni. . Se così fesse, dovrai mantenere la calma e provare a sentire cosa vorrà dirti. . Portate all'attenzione della vostra famiglia o di chi vi sta vicino, i problemi che, secondo voi, si stanno creando. . Non nascondeteli, anche perché è possibile che siano solo vostre sensazioni e ve lo confermeranno. . Le vostre paure vanno esplicitate, in modo da poterle affrontare, insieme a chi ne è coinvolto. Crescerete e avrete anche una importante lezione da tutto questo, così come ce l'avranno gli altri. . La coppia Venere-Plutone nel vostro segno vi dà fascino, mentre la Luna in quello opposto, segnala che il partner non rimane indifferente, chiaro come il Sole che è presissimo da voi. . Amore ed Eros, un nuovo look e un nuovo modo di porvi, quanto basta per riaccendere l'interesse del partner che vi guarda come una visione. . Complicazioni in vista per chi tiene il piede in due scarpe, il terzo polo del triangolo potrebbe darvi filo da torcere. . Plutone abita stabilmente nel vostro segno e vi stimola a organizzare piccoli viaggi e spostamenti ricreativi con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla terza decade. . Un momento felice vi fa brillare gli occhi e vi unisce armonicamente al vostro partner, specie se da poco conosciuto. . Lavoro e denaro, idee brillanti, originali e innovative, ma producendone a getto continuo finite paradossalmente per svalutarle, proprio come un quadro d'autore su una bancarella piena di cianfrusaglie. . Frenate l'entusiasmo, problemi familiari limitano la vostra libertà d'azione. . Guardiamo come il vostro segno si mostra nella professione del giornalista. . Concentrazione e forza di volontà sono il fiore all'occhiello di un segno dedito totalmente a questa professione, ambizioso quel tanto che basta per poter giungere ad ottenere le redini del comando. . La direzione dei giornali, non di rado compete a personaggi nati sotto il segno del capricorno. . . Non certo a caso, troviamo autorevoli personalità di importanti testate giornalistiche di stampa e tv, come ad esempio Gianni Riotta, Giovanni Floris, Enrico Mentana. . L'approfondimento razionale tende ad essere la punta di diamante di ricostruzioni logiche, severe, condotte pazientemente, quasi con uno spirito da detective. . Il rovescio della medaglia di tanta competenza, la mancanza di una certa leggerezza di tocco, a volte, come pure la difficoltà a metterci punte di ironia. . Beneessere, forma fisica perfetta, sani, belli e anche eleganti, se un malessere arriva fa parte del pacco imprevisti, ma si presenta fulmineo e altrettanto rapidamente se ne va. . . Crampi, emicrania e dolori di origine nervosa possono lasciarvi senza fiato, pochi minuti come un temporale. Poi tutto torna sereno. . . Per lei, l'ipersensibilità è simultaneamente fatta e strega, vi aiuta a capire gli altri, ma assorbendone gli umori come spugne e andate in confusione anche voi. . . Per lui, prima di imbarcarvi in un'impresa o affrontare un interlocutore sconosciuto, non dimenticatevi di accendere il radar della sensibilità, buon fiuto non mente. . Colore delle emozioni, dinaccia. . Barometro dell'umore, piovoso. . Pagellina del giorno, sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 6. . . Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. . 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